Ed eccoci qua con la campagna, non abbiamo il sole della campagna, non abbiamo l'impio della campagna, però Verona vi sta portando bene. Montrone, cosa dici? Come stiamo andando? Per oggi siamo soddisfatti, abbiamo chiuso la prima manche con 3-0 e 4 penalità, quindi domani si giochiamo tutto. Cosa speri? Dai, dillo, Montrone. Noi speriamo sempre di classificarci bene. La medaglia? No, la scaramanzia. Ci sono squadre comunque molto forti e storicamente forti. Qui è più difficile. Dai, dine una che hai visto che è abbastanza in forma. Come al solito sempre il Veneto, il Lazio, la Toscana. Però la campagna secondo me non demode. Per oggi non c'è male. Qui abbiamo uno dei nostri... Sentiamo cosa dice. Sentiamo l'opinione questa. Come si chiama l'istruttore? Salve a tutti, io sono Giuliano De Crescenzo. Ciao De Crescenzo. Sono il responsabile del settore giovanile della campagna. E io sono fiducioso. Io penso che alla campagna non manca nulla per essere tra le prime squadre. come succedeva qualche anno fa, che eravamo veramente forti. Lo siamo ancora. Montrone vi sta dando una mano in questo. Il presidente sta facendo un ottimo lavoro. Allora, l'opinione questa vi fa in bocca al lupo. Voi che saluto fate all'opinione questa? Ci guarderete? Ci sostenete? Sempre, sempre. Io vi sosteniamo. Il presidente è il più tradizionalista, diciamo. Va bene, grazie. Allora, la campagna. Un bocca al lupo, eh. Un bocca al lupo. Un saluto a tutti.